Sappiamo fare i conti alla ginnastica, guardare il mare e respirare plastica, facciamo la rivoluzione se ci va, ma niente è come stare nella macchina, nella macchina, nella macchina, ma niente è come stare nella macchina, nella macchina. Buongiorno e benvenuti di nuovo a un'altra puntata di Vape Traffic insieme a Stefano Pio, nella mia macchina, era un pochino che non li facevo vedere in macchina, però fortunatamente, finalmente per me, è di eccomi qui. Oggi volevo fare due chiacchiere con voi su dei liquid che mi erano arrivati, quindi diciamo ecco ci sarà, mi sono arrivati i palpo e a breve farò anche la recensione. Molto buoni quegli liquidini e invece oggi voglio guardare un pochino meglio dei The Arc, i The Arc che sono due, diciamo, ci sono due gusti, il Lion e il Beer. Lion molto molto fresco, un bel liquido frizzante, frizzantissimo direi, che probabilmente è un latte a cereali con note abbastanza marcate di limone, bello fresco, è proprio questa freschezza del limone che dà diciamo un po' a tutto quanto la particolarità di questo liquido. Vi vedo, bello fresco, bilanciato, ben miscelato, quindi la sbapata dà la sensazione di un unico gusto. I The Arc si presentano in una boccia da 100 ml, nera, molto bella, elegante, l'unica pecca secondo me è il tappo, nel senso che comunque non hanno la pipetta, ma hanno per me l'odiosa goccina delle novalcine, no? che per drippare potrebbe anche andare bene, però ci metti in quarto d'ora, perché ci metti in quarto d'ora per drippare. Però, levata questa cosa, il liquido merita veramente, veramente tanto, tanta roba. Poi, lasciamolo, c'è anche il bear, che me lo sto sbavando in questo momento, anzi, facciamoci due tiri. Come vedete, la corposità del vapore è tanta, perché è una base 70-30, un'ottima base direi, bella cremosa, pastosa. E questo, diciamo, mi ricorda vagamente, in questo senso, il Castellong, ma giusto per le note di caramello che sento qua all'interno, ecco, delle liquid. solo in questo, però, diciamo, molto, molto, anche questo bello cremoso, si lascia sbavare veramente bene, non stucca, non stanca, è la stessa base del Lion, quindi, diciamo, complimenti, un plauso ai The Ark, che sono usciti fuori. E poi, tra le altre cose, molto interessante, non da poco, il prezzo d'uscita, 100 ml, veramente convenienti, e quindi, veramente, veramente, complimenti a questa nuova casa, produttrice di Limit, che ha fatto un ottimo lavoro, secondo me. A me piacciono molto tutti e due, e addirittura il Lion, secondo me, quest'estate, andrà forte. Ripeto, ricorda, quello molto, l'Animal, però, è veramente, veramente buono. Un altro diretto insieme. Ottimo, ottimo, veramente, è chiaro che questi non sono liquidi da femminucce, hai capito? Sono liquidi da gente seria, da Vapers Pro, quindi, che fai? Non ti fai una boccia di uno e dell'altro, per forza. Quindi, vi saluto, un'ottima nuvolina. Nuvolina. E, come sempre, alla grandissima, taglie tutta. Dai, cazzo!